Un passo avanti e due indietro, solamente un modo per prendere tempo. Con durezza, Filt, CGL e USB parlano dell'avvertenza aperta sul phase-out del carbone della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord e della serie di incontri che si sono susseguiti con le istituzioni locali e regionali nelle ultime settimane, ma dai quali non sono emerse risposte, ma solo continui rinvii. I sindacati, rappresentanza dei lavoratori della società Minosse, addetti alla discarica del carbone presso la centrale elettrica Enel di Torrevaldaliga Nord, hanno dichiarato due giorni di sciopero per il 12 e il 13 ottobre e una manifestazione sotto al comune per il 12, alla quale invitano anche i portuali addetti alla pulizia stive delle navi carboniere, i metalmeccanici che lunedì scorso hanno scioperato e altre categorie impegnate negli appalti Enel. La principale ragione alla base della protesta è proprio la mancanza di soluzioni circa il futuro dei lavoratori che fin dall'inizio hanno garantito la funzionalità della centrale e che oggi non riescono a vedere oltre il 2025, data di chiusura della suddetta centrale. Secondo Filt, CGL e USB, la realtà sulla riconversione produttiva del territorio è solo una incontrovertibile e cioè che al momento non si hanno ancora proposte concrete da presentare ai lavoratori e alla città. Eppure, affermano, nel luglio 2022 sembrava si fosse imboccata la strada giusta quando la società Enel Logistics presentava un piano industriale per lo sviluppo di attività logistiche sul territorio di Civitavecchia. Un progetto che prevedeva tra l'altro l'assorbimento del personale attualmente impegnato nella logistica combustibili della centrale e l'utilizzo a regime di circa 150 unità. Poi all'improvviso su questi temi è calato un incomprensibile silenzio. Filt, CGL e USB annunciano un percorso di forte mobilitazione sostenendo che il tempo della lotta è adesso. L'obiettivo, affermano, è rivendicare anche attraverso la realizzazione di attività come la logistica e l'eolico offshore, impianto e hub di costruzione un nuovo sviluppo di lunga durata a carattere industriale e finalmente sostenibile capace di scongiurare la fase di profonda depressione economica e sociale che la chiusura della centrale di Torre Valdaliga Nord rischia di determinare. Grazie. Grazie.